Avete visto la grafica, la simpatica vignetta, è proprio vero. Massimiliano Stellato tiene per il cravattino Rinaldo Melucci, oserei dire lo tiene per le palle politicamente parlando. Ormai è Massimiliano Stellato che detta l'agenda, che detta le mosse a Rinaldo Melucci, che entra in rotta con il PD, fa fuori un assessore del PD, fa la guerra al PD per assecondare Massimiliano Stellato. Quanto ingenuo Rinaldo Melucci, non ha capito che Massimiliano Stellato prima o poi butterà a mare Melucci, come già ha fatto quando lo ha fatto cadere nel 2021. A Massimiliano Stellato interessa Melucci soltanto per gestire la macchina amministrativa comunale, per tenere in mano il comune di Taranto e poi anche per andare da Renzi e dire caro Renzi vedi ti ho portato il sindaco di Taranto. Lo stiamo soltanto usando, ci fa comodo mettere nel palmarès di Italia Viva il trofeo Rinaldo Melucci sindaco di Taranto, tanto prima o poi lo buttiamo. Ma la cosa che veramente mi fa inorridire è l'incoerenza voi di Melucci e voi di Stellato. Stellato come detto che tradì Melucci, Stellato che insieme a Brisci, insieme alla Casula e agli altri che decretarono la fine della scorsa consigliatura furono tutti questi definiti da Melucci ed Emiliano traditori. ora si è ribaltata la situazione e Stellato è il vero padrone di palazzo di città. Mi domando che senso ha a questo punto andare a votare, perché quando si vota uno vota un sindaco, uno vota una coalizione, qui invece troviamo il contrario di tutto questo. Abbiamo un'amministrazione penosa, un sindaco che peraltro ha strategia politica zero e che ha fatto diventare il vero re di Taranto Massimiliano Stellato, che altro non è se non un saltimbanco politico, uno che salta da destra a sinistra, da sinistra a destra, dal centro-destra al centro-sinistra solo perché vuole occupare poltrone, vuole raggiungere il potere, vuole avere posti di potere. Melucci non l'ha capito e si sta facendo portare a passeggio, si sta facendo tenere per il cravattino da Stellato. Se ne renderà conto Melucci quando sarà troppo tardi, resta il fatto che la gente è schifata da questi saltimbanchi politici. Ecco perché vogliamo costruire un soggetto politico nuovo, diverso, trasversale. Centro-destra e centro-sinistra ormai sono la stessa cosa, sono le facce di una stessa medaglia e la vicenda di Melucci e di Stellato ce lo dimostra ampiamente. Ma vedremo ancora chi sarà più saltimbanco dell'altro, politicamente parlando sempre, Rinaldo Melucci o Massimiliano Stellato. Certo è che due personaggi del genere fanno davvero scappare i cittadini dalla politica.